E' un progressista in materia sociale, è un grande della Chiesa, è il Cardinale Bergoglio che dal 2001 è arcivescovo di Buenos Aires. Cardinale, prego. Si è detto qui che questo libro era un'opera d'arte e Aldo ha usato la parola umanismo, umano. Credo che il successo di questo libro è proprio andare più avanti nella riflessione di un fatto concreto, storico, come è stato poi l'attentato. La ricerca di tanti fattori, ma non solo la ricerca tecnica che è buona. La ricerca sul piano creativo, umano, delle persone, delle motivazioni. Sono stato colpito di questa umanità, dell'anima di questo uomo che non può starci fermo e cerca di capire con l'intelligenza, con il cuore, capire la verità, capire la bontà e capire la bellezza. Cagnone, nel termine esatto etimologico della parola, è un poeta, uno che sa creare, ma creare nel senso sulla strada della verità, della bontà e della bellezza. Per me questo libro ci offre anche una metodologia di pensiero, una metodologia di riflessione su tanti fatti umani. Io ringrazio Cagnoli questo che ha fatto. Sono sicuro che la lettura di questo libro, di questo lavoro, in quale lui è stato tanto impegnato, si farà bene a tutti. Grazie.